Ho queste formie, vedete, qui c'è l'imbarco della Lazio Marra, sarà il nuovo traghetto perché quello non funzionava più, viene da Napoli, il Don Francesco, in fondo vediamo Gaeta e questa è la polizia che sta a formia, basta affacciarsi qua, guardate che cosa c'è, qua sto sul ponte, è Lazio TV, queste cose mica le vede, e poi da 3 all'assessore Salone all'ambiente perché sta aiutando il Gaeta, viene a Gaeta a fare le riprese di qualche, ma sta schifezza Gaeta non c'è, a parte qualche terrorista ecologico che va a buttare materassi, queste forme, non lo vedete, forse non ci crederete, in fondo si vede Gaeta, queste porte di forme, qua stiamo sopra il ponte, diciamo, della Flacca, guardate la schifezza, qui non vengono a prendere la monnezza da almeno un paio d'anni, e questo è il biglietto da visita di questa città, non voglio criticare il sindaco perché non c'entra niente il sindaco, non può stare da tutte le parti, non parliamo di Terracina poi che è in completo fallimento il comune di Terracina, lo vedete stiamo nei pressi dei magazzini orlanti,